Vincitore della sedicesima edizione CMC Challenger Città di Caltanissetta Pablo Carregno Busta Vittoria meritata, specialmente dopo la sconvitta del doppio, ti sei fatto ovviamente un gran torneo Si, ha sido una semana perfetta, doble hicimos final, mi primera final del doble in Challenger E al final individual, dopo una final molto dura, felicitare a Facu per il partito di oggi e per tutto il torneo e i tornei che viene facendo E, bueno, credo che, devo dire che il torneo è una meraviglia, è il torneo più alto che c'è, grazie a la città di Caltanissetta A tutti gli sponsor che lo facendo possibile, a la organizazione che fa questo realizzato e lo ha fatto molto bene E, bueno, anche felicitare a tutti i arbitri, a la città, 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 a la città E, bueno, non voglio olvidarmi del pubblico perché mai, mai ho avuto un partito con tanta gente in un torneo di questo livello E la verdad è che non hablo solo come io, sino per tutti i jugatori E' un piacere e moltissime grazie di verrà e spero che sigáis così, anno tras anno, grazie Grazie Anche in questo caso, sarò molto breve, anche di cui ho voluto ringraziare tutta l'organizzazione Dai raccattavalle agli sponsor, i giudici di linea, ma il suo ringraziamento è andato soprattutto al pubblico Lo avrete capito, diceva, non ha mai giocato un torneo, un challenger, con una frequenza di pubblico grande e calorosa come la nostra Quindi ringrazio soprattutto la città e la città E per il supporto del pubblico Grazie Si sarà anche consolato dopo quella partita della nazionale spagnola Benissimo, facciamoli un applauso Adesso, prima di concludere, il presidente per l'ingegnere Paglini Per l'ingegnere Paglini